Buongiorno a tutti, ragazzi, buongiorno, ragazzi, buongiorno, ho visto il filmato delle Iene. Ora, vi prego, vi prego, se siete persone intelligenti cercate di capirmi, perché qui e ora vi dovete prendere una cazziata, ma io gli altri non li conosco, Calogero lo conosco per internet, è d'arma pure, abbiamo rispetto tra di noi, li stimo, li saluto, gli altri non so chi siano, ora, io lasciamo perdere le Iene che fanno il loro lavoro, hanno gli ordini quello che devono fare, e vabbè, quel manco interesse la ti ripiace, perché lui sta a lavorare e arriva, fate il programma, da st'estate che si stanno a preparare, ora, io voglio chiedervi una cosa a voi, ma voi lo avete visto che avete combinato? qui puoi costruire per una vita e basta una cazzata, non è questo, non c'entra niente perché tanto ci fa ridere queste storie, ma, insomma, dai, porca miseria, c'è gente che sta a fare veramente le cose, se deve valere proprio, ma io, ma guarda, io non riesco nemmeno a essere me stesso, perché sennò dovrei essere chiaro qui come stanno le cose, perché io non voglio dirle io queste cose, io voglio chiedere a voi, riguardate quel filmato, forever, per tutta la vostra vita, chiunque ha messo bocca lì, ma voi come ci andate a parlare con le Iene? Le Iene viene a parlare con me, metto la telecamera questa mia qua, e gli dico se volete parlare con me, tutto quello l'intervista la riprendo pure io, perché poi loro mettono la loro pezzetta e io metto la mia a fianco, tu dici, ma quelli c'è, ma intanto vediamo come stanno le cose, no comment, non ci entravano in una conferenza, avete bisogno di visibilità, di farvi vedere sul Rai 2, e ora vi siete fatti a posto, il guaio che avete fatto a voi è inconsumabile proprio, ma voi non potete, ma uno che vede quel filmato e dici, Luigi è terapia, so pure io in mezzo a tutto sto, io non sto in mezzo a sto coso, per quanto so che la terra sia pianta, ma non sto in queste cose, non dico quello, con ladri, i cose, la matrix, ma che c'è, oddio, 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 ma che non mi ha chiamato a me Rai 2, Nemo, vi feci vedere, vi feci vedere, guarda un po' qua, andate a vedere,